La liberalizzazione del mercato luce e gas slitta al 2020, a stabilirlo un emendamento al decreto 1000 proroghe approvato in Commissione Affari Istituzionali al Senato. Un'ulteriore proroga che si aggiunge alle altre che fa slittare la data del 1 luglio 2019 al 2020. Una situazione su cui però l'Associazione dei Consumatori Robin Hood lancia un appello agli utenti di prestare la massima attenzione a possibili truffe da parte di alcuni call center che propongono cambi di contratto per la fornitura di luce e gas con la scusa della liberalizzazione del mercato. Ora questo passaggio l'autorità così come nel passato non l'ha ancora autorizzato per un semplice motivo perché nel settore del mercato libero non c'è ancora la concorrenza che la liberalizzazione auspica a esserci. Quindi non abbiamo prezzi minori, non abbiamo un miglioramento del servizio. Ora questa competitività non è stata messa in pista dagli operatori del comparto, invece sono state messe in pista delle operazioni che sono scorrette che noi denunceremo e quindi da qui anche l'appello ai consumatori di farci avere i numeri telefonici, i recapiti, le persone che fanno questi contatti. Il life motivo è che necessita urgentemente cambiare l'operatore perché il mercato di maggior tutela non ci sarà più. Non è vero, è stato rinviato a luglio del 2020 e ahimè penso che questa data sarà progratta ulteriormente, a differenza del settore della telefonia dove effettivamente poi l'abbattimento dei costi c'è stato e la competitività la vediamo tutti. Il nostro appello è anche e soprattutto alle autorità perché sono subito pronte a fare blacklist degli utenti non pagatori, magari non pagano perché hanno delle problematiche, hanno delle vertenze nei confronti dei fornitori e occorre finalmente creare una blacklist degli operatori che sono scorretti in modo che non possono cambiare ogni tre mesi agenzie e quindi ritrovarsi con dei contratti non corretti. A tutela del mercato dei consumatori ma anche a tutela di tanti professionisti che ci sono anche in questo comparto e che fanno il loro mestiere seriamente.